ora siamo venuti sotto gli amici nostri si morono di fama tutti quanti stanno cercando la faccia di Tuzuliana una volta tanta compagna buona che è esso che ci viene a portare qualcosa di buono a noi mandaci un segnale mandaci un segnale stanno cercando chiamo 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 mamma mia questa è diventata una città impossibile quando è passata chi si è? guardate che ha paura guardate che ha paura chi l'ha fatta la faccia bianca 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 sotto l'occhio è arrivata un po' cesso pure a chi sa oi oi e chiesto aiuto a San Gennaro vieni che ti ha mandato ti ha mandato due mani per salvarti ma che si cambierà con te vuoi e te io non mi fai provare sempre permettete che io mi ritiro nelle mie stanze e vado a fare proprio un po' di spesa ma siete d'altra sempre che dovete avere una cosa dovete avere una cosa ma che è successo quando mi dà la casa mia ti sembra che la legna la zia e la regna che vuoi che sto a vedere ma che sa ma non c'è fatto i tre orologi come si vengono a pignar eh? i capisci l'hanno scippato la coppola città io ti dico paura oddio stavano inguagliati i riempiti inguagliati i problemi avevano un orologio l'ora che avevano legato la comunione a sui no? niente me due guagliù al capo di guagliù due guagliù al capo di guagliù due tali guagliù al capo di guagliù al capo di guagliù al capo di guagliù hanno strascinato per te ma fa un boccio di me prego mio ma fa un boccio di me prego mio guardate questo è veramente un cos'è scia mazzino non si può accampare giù no? non si può vivere più ma non sei la bocce di me hai già ringraziato e com'è stato? e com'è stato? non esagerati ah ma io stiamo piangendo ho saputo insomma l'orologio ti ha fattito si ma che te l'hanno fatto lo scippe capito no? lo scippe lo scippe lo scippo vaffa papà dimmi una cosa che l'amico è tu che teni il tuo motorino veloce che la motocicletta veloce un bel libro a scuole eh beh o o vuoi dimmi chi è ma? come? ma perché oscar fammi capire hm? eh sei un zanna non hai detto qua tu mamma va a me la mia è arrivata la vista del mondo e beh mi levo nella casa e beh io non ho mai nemmeno la lista e beh ma già come tu hai fischio e già Madonna, Madonna mia, perdonali, fermali, sono venuta io a chiedere perdono per loro. Ecco qua, si fa un sacco gioco, ieri non si fanno una fiscina, non è possibile, si fanno uscì la pade, senza la vespa, senza la motocicletta, non si fanno la cosa. Beh, magari ci portate un qualcosa, che le ne sarebbe a cercare l'amico sui vennamela? E che fa? Che te lo scuriato, senza la carrozza ne è tutto, ah sì. Guarda la vescina, fanno la vescina, fanno la Gesa, mia mia, questa ciapoti ma faa... La bicchiarella. Aspetta, scusa, senti un'altra mezza, per forza una veglia ci siamo a fare, ma io non ci posso fare una pezza, capisci no. Andiamoci. Andiamo. Siete pronti? Che sa, mi si prova, aspetta. Guarda, 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 guarda. Ci, 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 cospetto. Madonna, hanno fatto lo scippo sotto agli occhi tuoi, ma non li ha fatto passare tanta l'ultimoербidio, credi che eri in grado di rile critically, quando ammettete e perché a chi ha messo il padre? a chi ha messo il padre? la conosci? che l'è mamma? era male? si è cagliato col piede è una passata uomo, è una passata ci ha fatto struppiare, non mi ha pigliato niente e ci ha fatto struppiare e ci ha fatto struppiare c'ho il motorino, c'ho la vespe c'ho l'ospedale c'ho l'ospedale